Un commando composto da cinque banditi armati di pistole ha malmenato e rapinato Giovanni Peroni, imprenditore di Monte Carlo, nella sua villa nel centro di San Salvatore. Stando alle prime ricostruzioni, in Tondano in 21, la vittima avrebbe sentito il cane abbaiare e una volta sceso in giardino per controllare, sarebbe stato aggredito dai rapinatori, che lo hanno colpito alla nuca con il calcio della pistola, lo hanno mobilizzato con delle fascette di plastica e sotto la minaccia delle armi lo hanno costretto a consegnare soldi e gioielli. Durante la rapina, in casa c'erano anche la moglie e la figlia dell'imprenditore, che sono state immobilizzate e minacciate anche loro. I malviventi hanno intimato all'uomo di aprire la cassaforte dove erano custoditi numerosi orologi di pregio e altri gioielli e subito dopo hanno chiesto di aprire anche un'altra cassaforte, di cui erano a conoscenza. Poi la fuga in auto. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, che hanno disposto una serie di posti di blocco sulla piana senza però riuscire a intercettare i malviventi.